Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi apriamo il nostro terzo Kinder Sorpresa Maxi della collezione Natuns. Una collezione veramente molto bella che mi sta piacendo veramente parecchio e devo dire che le sorpresine sono veramente molto molto belle. Una collezione che si completa di 5 pezzi totali. Questa collezione Natuns c'è in versione maxi con 5 pezzi, formata da 5 pezzi e c'è anche in versione mini nei classici Kinder Sorpresa, nei classici ovetti piccoli. Trovate gli altri video sul canale perché c'è anche quella collezione lì sul canale. Ci sono tutte le collezioni sul canale dunque vi invito subito ad iscrivervi al canale che invece quella degli ovetti piccolini dei Kinder Sorpresa classici è composta da 16 pezzi. Apriamo questo terzo uovo maxi e vediamo un po' chi troviamo al suo interno. Allora partiamo con togliere un po' di carta ecco la qua la carta che la togliamo, un po' di pugni ed ecco qui che si apre l'uovo maxi. Sorpresa maxi, involucro maxi come sempre e come sempre lo apriamo molto molto lentamente e troviamo l'orso. Troviamo un doppione purtroppo perché l'orso già lo abbiamo trovato proprio nel secondo video unboxing. Dunque adesso ci manca Cervo, Squalo e Aquila. Vediamo un po' di riuscire a trovarli da qualche parte e sennò partiremo un po' con gli scambi anche. Qui intanto vi faccio dare un'occhiata alla cartina. Non lo monto questo ragazzi perché va subito tra gli scambi e cercherò insomma di prendere uno tra Squalo, Aquila o Cervo ma credo che i video unboxing del Kinder Sorpresa Maxi continueranno perché qualcun altro lo compro e poi ci saranno tutti gli altri video delle collezioni Kinder e non solo anche delle altre marche. Trovate tutto sul canale ragazzi quindi io vi invito ad iscrivervi al canale per non perdervi questo e tanti altri video. Se volete vedere l'orso montato in tutto il suo splendore c'è il vecchio video. Se non l'avete visto recuperatelo. Io anzi prima di salutarvi vi ricordo che in descrizione ci sono anche i link delle pagine Facebook e Instagram del canale e i link del blog. Se volete seguitemi anche lì vi rinvito ad iscrivervi al canale e noi come al solito ci becchiamo al prossimo video. Ciao belli!